Maurizio Cianci, sono amministratore unico dell'Aseco S.P.A. che è una società controllata da ACUPI e che si occupa di trattamento, trasporto, intermediazione dei rifiuti. Amministrare una società significa occuparsi di amministrazione della società, degli investimenti, della gestione del personale e della linea produttiva. Hashtag per una Puglia più verde. Hashtag il rifiuto come risorsa. Cercare di rendere sempre più green il trattamento dei rifiuti in Puglia. Hashtag amo viaggiare. Il mio pregio so ascoltare, ma forse dovrei delegare di più. Il viaggiare. Il vedere quello che succede nel mondo. I motori. Il fare mountain bike. Ciao a tutti!